un applauso alla nostra squadra di giudici internazionali il signor Gideon Reisel dall'Olanda, il signor Fausto Scanzi dall'Italia, Mrs Anna Stajanonska from Poland and Mrs Michela Weiden from Germany. Accogliamoli con un applauso. E siamo pronti per iniziare con la nostra categoria 4A, puledri nati nel 2019. Category 4A is ready to start. Colts born in 2019. 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. con... con... con...